Abbiamo appena sentito nel Vangelo un episodio che certamente ha dei strati profondissimi per la vita di praticamente di ogni persona e certamente anche di ogni comunità, di ogni gruppo. Per esempio, tra gli ebrei e i samaritani c'era un abisso, un abisso pieno di disprezzo, un disprezzo oserei dire totale. I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Giovanni 4,9 è il commento di Giovanni Apostolo che lo aggiunge alla parola di grande stupore che la samaritana rivolge a Cristo. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Samaria è stata maledetta con i peggiori flagelli che si può immaginare, perché era un'adultera religiosa. Per esempio, se uno vuole andare a vedere Osea 10,7, 14,1, Ezechiele 23,33, Michea 1,6 e c'è una sfilza lunga. Quanti pregiudizi abitano la storia dell'umanità? È impressionante. Anche i cristiani non siamo esempi. Quanti pregiudizi pesano sulla nostra storia? Anche i giudizi religiosi che ci lanciamo tra di noi. quando tutta la forma sociale e culturale era, per esempio, in Europa cattolica, chi si discostava un pochino da questa forma? Quanti giudizi dai vicini, di quelli ben pensanti, eccetera. Basta che uno pesantemente lavorando venerdì ha mangiato un po' di salsiccia. Ma che roba. Quanti giudizi. Uno che non ha mandato il figlio il primo venerdì del mese alla messa, eccetera, eccetera. E non ne parliamo altre cose che sono ancora più gravi. E molti di questi pregiudizi e giudizi ci è liberato il crollo del numero dei cattolici e dunque il congedo di una forma cattolica della società. E allora questi pregiudizi e giudizi non hanno più nessun peso e non hanno più neanche motivo di essere. Ma oggi il Vangelo fa notare che la lebra ha messo insieme i giudei e i samaritani. Erano insieme. È probabile che erano in un villaggio dei lebrosi perché se no non si capisce com'è che dal villaggio uscivano i lebrosi che non potevano starci. Allora la lebra li ha messi insieme. Ma non è la soluzione. Perché stanno insieme per la necessità creata da un male e dunque da una prescrizione religiosa su questo male. Però è vero che su Letto di morte la tradizione, la sapienza umana racconta che tantissima gente nel Letto di morte lo dice, lo dichiara e lo fa vedere, fa notare che tante cose per quali si combatteva per tanti anni della vita non hanno nessun peso e nessun senso. la morte è un relativizzatore straordinario, relativizza molte cose. Basta leggere, come cito tante volte, Coelette 2, che è un capitolo straordinario per far vedere come la morte relativizza tutto. Ma non è la soluzione. Anche la lebra non mette veramente insieme gli ebrei, i giudei e i samaritani. Perché stanno insieme per una necessità. La morte è la conseguenza del peccato e non può presentare per sé stessa la vittoria sul male e sul peccato. L'egoismo produce la morte e non può avere in nessun modo un messaggio positivo. La morte ha un messaggio devastante. Sarà solo Cristo che su questo vuoto devastante della morte riempirà con amore. L'unico è Cristo che ha fatto vedere che anche la morte può manifestare Dio e il suo amore per l'uomo. E ha distrutto la morte perché gli ha dato il senso. La morte ha potere perché non c'è nessun senso. Ma lui gli ha dato un senso e l'ha distrutto. Con la morte ha distrutto la morte. Giudei e samaritani oggi nel Vangelo sono insieme, però abisso tra di loro rimane. Solo che il significato di questo abisso e la lettura di questo abisso cambia. I giudei rimangono religiosi, chiusi nella loro legge e nelle loro prescrizioni. Ma al samaritano appare credente, l'uomo della fede. Che shock! Perché gli ebrei, i giudei si sono andati a presentare al sacerdote, verificato che sono guariti. Hanno fatto anche forse quello che dovevano fare per la purificazione, per quello che si deve fare e sono andati avanti. Perché? Perché questo fa parte della loro religione. Non succede niente tra loro e Dio. Loro fanno queste cose. Infatti Cristo, ci sono un paio di posti nel Vangelo che è molto scomodo. Perché dice, nel Luca 13, 29, verrà dell'Oriente e dell'Occidente, del Norte e del Sud e vi precederanno. Ma ancora più drammatico, Matteo 21, 31, i pubblicani, i peccatori per eccellenza e le prostitute vi precederanno. Entreranno prima di voi nel regno. Allora, è interessante che i giudei non si rivelano contemplativi e perciò non credenti. I profetti insegnano attraverso tutta la loro profezia come leggere la storia per vedere, per scorgere negli eventi che accadono la presenza dell'azione di Dio, come Dio agisce attraverso la storia. Il profeta insegna, cerca di aprire il popolo alla contemplazione, a vedere oltre, a non fermarsi sulla famosa corteccia che abbiamo già parlato più volte. Vedere dietro gli eventi un volto preciso, una mano precisa, un gesto di un amore misericordioso. Questo vuol dire essere aperti nel cuore. Il cuore è il luogo della vita della persona, dunque è il luogo dell'amore, perché la vita dell'uomo è secondo Dio. E allora, essere aperti nel cuore vuol dire essere aperti alla relazione verso l'altro. Non essere chiuso su se stesso e non essere chiuso neanche dentro un mondo della religione, ma cercare di uscire, di scoprire un nesso, un ponte, una relazione con gli altri, cioè soprattutto con l'altro, con la maiuscola, con Dio, per vedere il volto, la persona, la mano di Dio, della providenza divina, dell'amore misericordioso che agisce attraverso gli eventi della storia. questo samaritano era aperto nel cuore. Semplicemente. Lui non si è fermato agli eventi, è andato oltre. E che cosa ha colto? Che dietro questa purificazione e dietro la guarigione di Lebra, c'è qualche d'uno che gli rivolge una parola. Qualcuno li vuole parlare, qualcuno lo cerca. E siccome è Cristo che gli ha detto di fare questo, lui torna da Cristo. Perché, vedi, lui ha una sensibilità relazionale. Lui non si ferma all'evento, ma vuole andare dietro colui che sta dietro questo evento. E torna. E la prima constatazione qual è? Che si è mossi dalla gratitudine. Lui si prostra. Lui esprime fisicamente, visivamente, una commuzione totale di tutta la persona. Perciò si prostra, non dice semplicemente grazie, ma fa un gesto di tutto il corpo per far vedere la gratitudine. Ecco la fede. Ecco proprio l'immagine della fede. Proprio visivamente si coglie che cosa è la fede. Esce da se stesso e riconosce l'altro. L'altro come il primo. Lui è così com'è. Grazie a te che mi hai fatto questo. Io sono ciò che sono grazie a te. Ecco, allora lui entra proprio in quello che Cristo gli ha mostrato. Cristo gli ha mostrato l'amore, la pietà. Abbi pietà di noi. Non non è detto guariscici. Abbi pietà. Prendici in una relazione diversa come altra gente. E lui ha percepito che qui c'è qualcosa che va molto oltre. E prende verso di lui un rapporto proprio di fede verso Dio. E il primo passo è la gratitudine. San Marco Ascetta dice chi ringrazia Dio, chi è grato fa i miracoli. Perché? Perché non è lui il responsabile in prima persona delle cose. Non fa lui. Ma come Giuseppe di Gitto chi diceva non io, Dio fa. Come Davide da piccolo. Non io, Dio ha fatto. Ecco, proprio è così. Ma è interessante come anche nella nostra storia abbiamo spinto, dentro la storia della nostra fede cristiana, abbiamo spinto l'amore nel mondo morale. Come il mondo, come una cosa da raggiungere e non come la fonte. La relazione è come una cosa psichica, sociale. E non come la ontologia, cioè come ciò che veramente sta al fondamento della nostra esistenza. E abbiamo fatto un'ontologia metafisica, tante cose astratte. E pensate, si poteva arrivare a una religione che persino crea un benessere e guarisce la gente perché crea gli ospedali. Ma non significa comunicare la salvezza. Oggi abbiamo visto nel Vangelo che si può essere purificati delle impurità, si può essere guariti della malattia, anche molto gravi, si può essere rinseriti nella società, ma non essere salvati. Solo questo samaritano, la fede ti ha salvato. È importante perché la salvezza che viene usata la parola qui è proprio quella parola, quel verbo dal quale proviene soggetto soter salvatore. Cioè si può anche promuovere tante cose, ma non è detto che si promuovere la comunione con Dio. Cioè quello che veramente redime l'uomo perché lo rende alle immagini di Dio, alla sua somiglianza. E perciò concludiamo, vedi, la tua fede ti ha salvata. Cioè se sei salvato sei liberato da te stesso. Mentre se sei guarito ti puoi ancora più innamorare di te stesso perché adesso stai bene. Invece se sei salvato si vede dove? Perché ti prostri a Dio, lo riconosci e entri nella carità con gli altri. Tu hai ricevuto un dono, tu stai diventando un dono. Galati 5 e 6. La fede si vede nella carità. La fede si vede nella carità.